cosa da nulla. Quando parlavo all'inizio della vera, della vita eterna, della vita vivente che si trasforma in vita saputa, c'è un salto, questo salto d'angoscia perché noi perdiamo il rapporto con la nostra potenza solo per riuscire a leggere la trascrizione della nostra potenza. Beh è qualcosa su cui c'è da pensare, io so che a me come a tutti quelli che sono la mia professione è costato l'anno.